Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video nel quale vorrei presentarvi prima di tutto il lavoro che andremo a fare insieme con questi tutorial vedremo un po' come organizzarci comunque per ora vi presento un attimo tutto il lavoro e vi dico anche cosa dovrete preparare per il prossimo video come vedete si tratta di un vestitino per bambina, molto piccolino, infatti l'ho fatto 0-3 mesi ma è facilmente adattabile anche per taglie più grandine perché una volta conosciuto il metodo, imparato il metodo si possono attraverso il campione facilmente fare e realizzare anche altre taglie allora questo dicevo è 0-3 mesi caratterizzato principalmente da queste piegoline che si trovano 3 sul davanti del lavoro e sono le pieghe baciate e le abbiamo fatte sul canale c'è il video apposito per poterle realizzare che vi metto qui così potrete andare già da subito ad esercitarvi se non le sapete fare in quel video infatti sono spiegate in maniera molto molto dettagliata quindi passo passo chi ha seguito le ha già imparate mentre chi deve fare il vestito le può tranquillamente andare ad imparare fate un pezzetto di maglia rasata e poi fate la piega ok? più di una volta, varie volte finché non vi viene bene perché diciamo è una lavorazione un po' particolare e quindi c'è bisogno di starsi ad esercitare abbastanza per poterle fare poi magari c'è qualcuno che già dalla prima volta le realizza in maniera perfetta e quindi voglio dire non ha bisogno di grandi ripassi comunque il video c'è, ve lo metto qua nelle info, in descrizione e nelle schermate finali quindi lo trovate tranquillamente dicevo le pieghe quindi baciate, eccole qua ne ho messe 3 nella parte anteriore del vestitino e poi 2 nella parte posteriore così allora la parte posteriore è aperta infatti sono due porzioni staccate e qua la andrò a chiudere con i bottoni quelli automatici due pieghe perché è chiaro una a destra e una a sinistra niente, rosellina perché la bimba qua se la mettete sulla culla a dormire poi posteriormente no? da fastidio sentire la rosellina ecco e quindi le ho posizionate solo sul davanti se la bimba è più grande e cammina le potrete mettere anche dietro le roselline ma potrete mettere queste oppure altre fatte all'uncinetto da voi insomma altri decori, altri ornamenti questo non è di fondamentale importanza poi l'ho fatto così senza la manica perché ho previsto sopra uno scaldacuore oppure un qualcosa, un golfino così da metterci sopra abbinato quindi comunque senza le maniche voi potrete mettere chiaro qui alla bimba quelle magliettine aderenti no? con le maniche lunghe così lo potrete mettere anche in questa maniera ecco senza bisogno dello scaldacuore sopra o del golfino e quindi maglia rasata tutto quanto la rifinitura è all'uncinetto quindi a maglie basse quindi adesso vi dico le misure e gli strumenti e i materiali che dovrete procurarvi quindi questo maglione dicevo 0-3 mesi qui alla base la gonna è 30 cm e anche l'altezza di tutto il vestitino ovvero la lunghezza è di 30 cm poi è chiaro qui va a restringere con queste pieghe però noi dobbiamo partire da una larghezza di 30 cm si arriva qua al punto vita che è un pochino alto a 20 cm e poi tutto lo scalfo è direi sui 10 cm la scollatura si trova a 27 cm infatti qui sono 3 cm necessariamente ok quindi le misure bene o male le ho già dette perché poi queste sono bisogna prendere i ferri numero 3 poi dovrete procurarvi l'uncinetto numero 2 ok per fare le rifiniture nonché per le pieghe due ferri ausiliari di quelli dritti cioè praticamente questi qua non questo qui mettiamo la croce su questo che è quello per fare le trecce quindi lo mettiamo via subito ma questi ferri ausiliari qua questo è troppo spesso e quindi necessariamente della stessa misura più o meno dei ferri ecco quindi 3 va bene questo è un pochino più grande però dai non stiamo a guardare troppe sottigliezze perché se non ne abbiamo due perfettamente uguali non fa nulla vanno bene anche così quindi quelli rettilinei i ferri ausiliari quelli rettilinei poi vabbè ago e tutto quanto le roselline o altri decori che avete preparato e gli automatici dietro se avete quella macchinetta per metterli ok oppure che ne so mettete dei bottoncini vedete voi cosa volete mettere là posteriormente ok il materiale va bene io ho utilizzato pura lana molto morbida che si lavora con i ferri numero 3 e è pochissima è questa direi che questa non pesa neanche un etto e quindi per una bimba piccola un etto è più che sufficiente però ecco se volete andare proprio sul sicuro prendetene un etto e mezzo 150 grammi e tante volte dovesse succedere qualche incidente o cose simili ho realizzato questo vestitino perché tante di voi mi hanno chiesto un vestitino a maglia poi io ne ho realizzati anche altri magari ve li farò vedere e se volete possiamo realizzare anche quelli ne ho almeno altri tre sempre a maglia quindi poi ve li farò vedere e mi direte se vorrete realizzare anche quelli per ora facciamo questo qui che è semplice a parte la porzione delle pieghe quindi se c'è una principiante tra di voi ripeto tutto si può fare perché è a maglia rasata tranquillo però prima vado ad imparare le pieghe che si fanno quindi basta esercitarsi non sul vestitino ripeto ma su un altro pezzo di maglia rasata finché non vengono perché vengono tranquillamente e poi si va a mettere mano ecco al vestitino torniamo a noi per ora che cosa prepariamo prepariamo un pezzo di maglia rasata così quindi questo qua rappresenta la gonnina del davanti prima dell'esecuzione delle pieghe ok quindi ho avviato necessariamente 84 maglie sui ferri e i primi 4 ferri eccoli qua questi sono un cannolè a maglia legaccio quindi sono 4 ferri al dritto poi per fare tutta quest'altra parte sempre a maglia rasata quindi alternando un ferro al dritto e un ferro al rovescio arrivate e ricominciate il conto perché quei 4 li contiamo indipendentemente dopo i 4 del cannolè iniziate a contare uno e andate dal primo che lo faccio sempre al dritto il primo ferro fino al ferro numero 74 qua su che è un rovescio poi per i due dietro ovvero queste porzioni qua anche qui preparate già delle cose ovvero come ho fatto io qua avviate 39 maglie questa volta ok quindi 39 per il dietro qua di destra e 39 per il dietro scusate di sinistra e 39 per il dietro di destra sempre i 4 ferri a maglia legaccio eccoli qua di questo piccolo cannolè e sempre 74 ferri quindi dal primo al 74 il primo è un dritto e il 74 è un rovescio prima era appunto con 84 maglie e adesso è con 39 maglie arrivati però a questo punto con le tre parti già pronte fatte preparate il lavoro poi è poco perché c'è più da fare soltanto questo pezzettino qua del corpetto sia anteriormente che posteriormente quindi poca poca roba e anche e la rifinitura quindi la porzione da lavorare in tutta tranquillità è questa la potete fare anche mentre guardate la tv insomma così o ascoltate la musica eccetera perché si tratta di fare solo maglia rasata si conta anche bene l'importante non perdere maglie mi raccomando quindi qua 84 39 39 e però per il resto andate su alternando un ferro al dritto un ferro al rovescio un ferro al dritto un ferro al rovescio e va tutto più che tranquillo andrò anche velocemente in questo video quindi a fare adesso la piega quella sul dritto del lavoro e quella sul rovescio del lavoro quindi quella che va da destra verso sinistra e quella che va da sinistra verso destra ecco qua la piega baciata e voi però andate a guardare questo video che vi comparirà alla fine nelle schermate finali appunto dove potrete trovare la spiegazione proprio specifica velocemente quindi vi faccio vedere un ripasso della piega baciata sul davanti del vestitino quindi dovranno essere messe tre pieghe vedremo le distanze e tutto e andiamo ad iniziare quindi erano in tutto 84 maglie stiamo al ferro numero 75 e dobbiamo andare ad eseguire queste tre pieghe allora in questo caso le ho distribuite così iniziamo facendo sette maglie al dritto io devo anche agganciare il filo perché nel frattempo no l'ho utilizzato per fare anche le porzioni del dietro del vestitino quindi iniziamo facendo una due tre quattro cinque sei e sette maglie al dritto ecco i due ferri ausiliari ne prendo uno a caso e lo faccio diventare il primo ferro ausiliario e metto tre maglie su questo primo ferro ausiliario quindi uno una due e tre maglie e le lascio in sospeso sul davanti del lavoro quindi così davanti a me poi prendo l'altro ferro ausiliario e metto in sospeso altre tre maglie quindi una due e tre sempre sul davanti del lavoro adesso devo mettere dritto contro dritto le maglie del secondo ferro ausiliario con quelle del ferro di sinistra quindi lo vado a girare così e le maglie infatti si trovano vedete dritto contro dritto poi quelle del primo ferro ausiliario rovescio contro rovescio con quelle del secondo ferro ausiliario ed ecco qui che si trovano rovescio contro rovescio adesso queste tre maglie io le devo andare a lavorare insieme al dritto e un ferro ausiliario e questa è la piega sul dritto del lavoro vedete la sua direzione da destra verso sinistra tra una piega e l'altra c'è un punto quindi lo andiamo a fare ovvero una maglia al dritto eccola qui questa adesso dobbiamo fare la piega nell'altra direzione quella sul rovescio del lavoro vado a prendere il primo ferro ausiliario e di solo tre maglie e le vado a mettere in sospeso sul rovescio del lavoro questa volta quindi così poi il secondo ferro ausiliario ne prendiamo altre tre quindi una due e tre e le mettiamo sempre in sospeso sul rovescio del lavoro adesso dobbiamo sottoporre le maglie del secondo ferro ausiliario a quelle del ferro di sinistra rovescio contro rovescio quindi dobbiamo girarle così e poi sempre sottoporre perché stiamo lavorando a rovescio quindi si dice sottoporre dritto contro dritto le maglie del secondo ferro ausiliario con quelle del primo ferro ausiliario e quindi siamo in questa situazione dobbiamo gir�le dobbiamo gir�le Grazie a tutti. Ed abbiamo fatto quindi anche l'altra piega, la piega sul rovescio del lavoro, quella che va da sinistra verso destra. Adesso tra due pieghe e altre due pieghe ne dobbiamo lavorare 6, quindi lavoriamo 6 maglie al dritto. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ok, adesso ne dobbiamo andare a posizionare altre due, una qua e una qui. Perfetto, quindi dopo le tre pieghe noi sul ferro abbiamo le prime 7 maglie, più 3 maglie per una piega, la maglia centrale, altre 3 maglie per la seconda piega. 6 maglie, 3 maglie per la prima piega, la maglia centrale, 3 maglie per la seconda piega, 6 maglie, 3 maglie per la prima piega, 1 maglia centrale, 3 maglie per la seconda piega, 6 maglie e 2 maglie. ok in tutto 48 maglie nel ferro numero 75 che adesso lavoriamo a rovescio nel ferro numero 76 adesso potrete andare ad eseguire le pieghe anche sul dietro sui due dietro del vestitino vi dico come le ho posizionate io se volete seguire questo schema ok se altrimenti volete spostarle un attimo potete anche farlo tranquillamente allora nel dietro di sinistra che è praticamente questo qua io ho iniziato lavorando 9 maglie al dritto poi ho fatto la piega quindi le 3 3 3 della piega la maglia centrale le 3 3 3 della piega e poi avanzeranno 11 maglie da lavorare al dritto nel dietro di destra invece bisognerà fare la cosa speculare ovvero lavorare al dritto 11 maglie poi 3 3 3 per la prima piega quella sul dritto del lavoro una maglia 3 3 e 3 per l'altra piega sul rovescio del lavoro e poi finire con 9 maglie quindi la cosa speculare rispetto a quello di sinistra 9 stanno qui 9 stanno qui la piega la piega e 11 stanno qui e qui quindi da 39 maglie poi nel rovescio successivo ne risulteranno 27 perché 39 meno 12 fa appunto 27 in quanto in una piega formata da due pieghe quella sul dritto e quella sul rovescio in ognuna ne diminuiranno 12 maglie 27 maglie nel ferro numero 76 che voi dovrete lavorare al rovescio quindi